buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale youtube da qua comincia un'avventura vi voglio rendere partecipi di tutto il progetto che abbiamo creato io e la mia compagna siamo nel reto della mia palestra abbiamo appena cominciato i lavori di pulizia qua abbiamo sbiancato il muro con l'idro pulitrice adesso sto pulendo con la scopa per terra poi passerò anche per terra l'idro pulitrice e i lavori andranno avanti per cosa vi chiederete che lavori stiamo per allestire una palestra a cielo aperto quindi una palestra outdoor appunto subito dietro la nostra palestra abbiamo questo spazio di 90 metri quadri veramente il top adesso lo vedete già abbastanza pulito perché comunque è un mese che ci lavoriamo abbiamo tolto tutto lo schifo che c'era e niente basta parlare adesso vi farò vedere come avanzeranno i lavori a dopo ragazzi ciao ciao arrivata la sbarra eccoci qua vi avevamo lasciati che era tutto vuoto adesso stiamo allestendo il sintetico e la palestra comincia già a prendere forma Elena sei felice? adesso pensiamo a mettere le sbarre Elena che appoggia con cura la mia sbarra da freestyle ciao 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 ok adesso procediamo con l'installazione delle parallele sia di là che di qua la situazione al momento è questa vi faccio vedere la situazione altro giro altra corsa allora le parallele montate qua c'è Elena che si allena con l'amico vabbè non si sa cosa stiano facendo qua abbiamo un'altra sbarra che stiamo per montare stile spartaco ma made in seaben che è lui e adesso montiamo questa sbarra per oggi i lavori sono finiti vi lascio con un tramonto all'orizzonte buongiorno altro giorno di lavori stiamo finendo di mettere le parallele al muro quelle da dietro abbiamo già concluse le sbarre la sbarra spartaco e adesso finiamo qua ragazzi i lavori sono praticamente terminati adesso sbaracchiamo tutto qua qua sarà bello pulito anche qua venite con me allora benvenuti nella mia seconda casa partiamo con un'installazione di sintetico è un po' finita questa bellissima sbarra bella distanziata dal muro abbiamo un 28 mm di diametro abbiamo provato una presa un po' diversa rispetto a quella la della sbarra spartaco che è di 33 mm di diametro qua abbiamo la sbarra da pistai unica nel suo giallo è un nuovo sistema di sbarra ha un sistema che la rende un po' flessibile quindi bellissima ovviamente non ho mai avuto una situazione così bella ringrazio la sbarra bella solida fa mettere i miei materassi poi è sempre un'altra sbarra spartaco qua riusciamo a fare anche le skis perché dall'altro si stanno da un muro quindi si deve fare tutto continuiamo facendo le livelli delle parallele anche a distanza della sicurezza le abbiamo fatte qua abbiamo una presa un pelo più stretta qua abbiamo una presa un pelo più alta se uno vuole vedersi la vista qua e a gira tutto il pacchetto ragazzi mostra la visuale dall'alto guardate qua faremo freestyle ma comunque è una sbarra che si può utilizzare non solo più freestyle la sbarra a muro, la sbarra a muro, le parallele poi qua metteremo tutti gli aggeggini vi ho fatto vedere tutti i passaggi dall'inizio alla fine dei lavori quindi questa è la conclusione ovviamente mancano ancora gli oggettini, pesi, pesetti e quant'altro però questa è l'area completa in tutto la sua bellezza avevamo perso le speranze poi è nato questo progetto siamo dietro la palestra lo ricordo e quindi questa area qua ci salverà in questo periodo di pandemia e spero che questo video vi dia un po' di motivazione che comunque anche dalle brutte situazioni come il covid possono nascere dei bellissimi progetti ovviamente con tanti sacrifici però ce l'abbiamo fatta questo è il risultato finale ragazzi non potevo chiedere un'aria più bella veramente altra cosa che aggiungo prima di finire il video che finalmente posso anche insegnare il freestyle in una struttura e che posso appunto insegnarlo in sicurezza con i materassi abbiamo una sbarra di due metri e mezzo e un sintetico con i materassi lavoreremo al meglio il video finisce qua ragazzi mi raccomando mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao